Uomini e donne, Mariano Catanzaro, c'è la mia scelta, ma la realtà è un'altra. L'annuncio del tronista nel corso della puntata del Trono Classico del 28 marzo. . Dopo le esilaranti esibizioni dei Cavalieri in studio per Tina Cipollari sono entrate in studio le corteggiatrici di Cancelletto Mariano Catanzaro nel corso della puntata del 28 marzo del Trono Classico di Uomini e donne . Il napoletano è ormai diventato il cancelletto tronista della Mossa del Giaguaro con il ritornello della canzone del Piotta a caratterizzare ogni esterna. Ogni qualvolta parte il brano è il segnale che il 24enne è riuscito ad ammaliare le giovani protagoniste del Trono Classico. L'atteggiamento di Catanzaro ha sollevato le critiche di alcune corteggiatrici che hanno accusato il giovane di comportarsi allo stesso modo con tutte. Nel corso del suo percorso sul Trono Classico del People Show di Maria De Filippi il napoletano ha mostrato una certa attrazione nei confronti di Valentina. . Quest'ultima sembra leggermente avanti rispetto alle altre ragazze scese in studio per l'imprevedibile 24enne. Al termine della precedente puntata Mariano Lara giunta in camerino per avere un nuovo chiarimento con lei. . Tra giochi di sguardi e coccole è scattato un nuovo intenso bacio con la corteggiatrice. La Mossa del Giaguaro e i baci con Valentina. . Nelle successiva esterna con Eleonora non mancano apprezzamenti e tenerezze durante l'incontro nello studio oculistico. Da quando è iniziato il percorso sei la ragazza che mi ha colpito di più. . Ho in atto una conoscenza con Valentina, con lei mi trovo pene ma ho dei dubbi. Da parte sua la giovane ha spiegato di non essere una ragazza d'astorielle. . Mi stai sorprendendo perché mi aspettavo un approccio più fisico da parte tua. . In seguito Catanzaro ha fatto scherzo a Valentina fingendo di non presentarsi in esterna. La voglio portare all'esasperazione per vedere come reagisce. . In effetti la corteggiatrice virgola è visibilmente infastidita e quando le dicono che non si presenterà afferma perentoriamente che non tornerà in studio. . Alla fine il tronista si è palesato per la gioia della giovane, sto vivendo delle sensazioni belle, emozioni che non provi con tutte. La finta scelta e il ballo con la madre. . Al termine della cena è scattato un nuovo intenso e bacio, andiamo sempre più avanti. Nonostante, l'evidente coinvolgimento con Valentina il kiss è scattato anche durante l'esterna napoletano con Roberta. . A questo punto Mariano ha riferito che è evidente che prova qualcosa in particolare per una persona in studio. . . So che vi deluderò ma in questa settimana ho pensato molto ad una persona e credo che quando senti una cosa la devi fare. Insomma qui c'è la mia scelta. . Catanzaro si è diretto verso il pubblico ed ha iniziato a ballare con la madre. È la persona più importante della mia vita e qui c'è anche mia sorella. . . . . . .